carissimi amici buongiorno a tutti mi trovo qua al porte aperte oggi è domenica 2 aprile e sono qui a documentare questo mezzo che ho la pelle d'oca nel rivederlo rifatto perfettamente a nuovo così questo era il fiat 662 che a suo tempo avevo fatto recuperare e salvare e guardate che spettacolo guardate che spettacolo gente è ritornato esattamente come nuovo come nuovo fiat 662 n2 appartenuto ai fratelli schiena di via edilio raggio di novi ligure camion del quale conosco la storia da sempre mi sono mi sono mobilitato in tutti i modi per far sì di riuscire a salvarlo ci sono riuscito ma di questo bisogna dire grazie a carlo marazzato guardate che opera d'arte ha fatto lo ha rimesso semplicemente a nuovo a nuovo in ogni suo particolare necessita ancora di di qualche lavoretto ma sono cose diciamo marginali fortunatamente ha mantenuto le sue targhe originali quelle che io ho sempre visto in questo caso in questo caso l'ho sempre visto con queste targhe un piacere rivederlo ancora con queste targhe ecco guardate che meraviglia ragazzi con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima ciao a tutti